Ciao a tutti e benvenuti, oggi preparo con voi delle pasticche disinfettanti per WC con il sapone alga. Purtroppo il mio telefono ha fatto le bizze, quindi sono saltati alcuni passaggi che comunque sono importanti per la preparazione di questa ricetta, diciamo così. Vi segnerò poi tutto nell'info box, tutti gli ingredienti, in maniera tale che potete duplicarle in maniera tranquilla. Allora, sono andata a sciogliere io una tazzina di acqua, una tazzina da caffè piena di acqua, acqua del rubinetto, un quarto di sapone alga, quindi poiché è un panetto da 400, ci sono circa 100 grammi. Si scioglie molto rapidamente, essendo appunto molle, potassico, quindi si scioglie molto molto velocemente. Vado a riempire ancora la mia tazzina, non pienissima, perché adesso vado ad inserire il secondo componente. La cosa importante non è attaccare solo la pallina, io col sapone alga non mi metto a fare le palle, sinceramente. Prendo la quantità che mi serve, dobbiamo disinfettare il WC, quindi dobbiamo aggiungerci non solo la pallina di sapone, ma dobbiamo metterci anche del disinfettante, degli igienizzanti. In questo caso vado ad aggiungere due cucchiaini e mezzo di soda da bucato, detta anche sodina, si trova a supermercato, si trova nei negozi detersivi, normalmente è un barattolo con il tappo blu. E quindi vado a sciogliere in questa tazzina di acqua, e poi vado ad aggiungere, perché in realtà mi servono due tazzine di acqua per questa preparazione. Adesso purtroppo manca un passaggio, ve lo dico a voce, poi vi scriverò gli ingredienti. L'altro passaggio importante è il tensio attivo, che adesso vedremo, che sarà il sapone dei piatti, che servirà a trasportare nel momento in cui si fa lo scarico, le particelle che noi non vediamo, magari di grasso, di sporco grasso, che è all'interno del WC. Quindi non dobbiamo solo profumare il WC, dobbiamo anche disinfettarlo. Allora, intanto adesso vado ad aggiungere quest'altro ingrediente, che è il sale. Io ho finito il sale fino, con il sale fino potete tenere la fiamma spenta, intanto l'acqua è bollente, nel mio caso avrei dovuto tenerla accesa. Comunque si scioglierà lo stesso. Un cucchiaio di sale. Quello che voglio dire è che avendo messo la soda da buccato, che è igienizzante, e dà una mano sia al sapone alga, sia al tensio attivo, il sapone dei piatti, non possiamo mettere l'aceto. Se volessimo fare questa preparazione con l'aceto, dobbiamo escludere, va bene uguale, va bene anche, dobbiamo assolutamente escludere la sodina, perché altrimenti l'una annulla l'altra e non servirebbe molto. Qui ho un cucchiaio e mezzo di detersivo dei piatti, il tensio attivo. Se volete la schiuma, perché ne farà poca in questo caso, ma se volete più schiuma, aggiungete un altro cucchiaio di tensio attivo. Quindi due cucchiai e mezzo, tre al massimo, perché si deve solidificare, quindi se ne mettete tanto rischia di non solidificarsi. Adesso qui manca un passaggio. Qui sono andata ad aggiungere del colorante verde, che però è opzionale, che tra l'altro non ha colorato un granché perché era liquido. E sono andata ad aggiungere, ecco questo è anche opzionale, se volete profumare, del profumo. Ho preso proprio un profumo di quelli che non uso più, perché non mi piacciono, ne ho vari. Ho fatto circa una ventina di spruzzate. Potete usare in alternativa anche l'olio essenziale del tea tree oil, della malaleuca. In quel caso lì potenziate la pasticca, perché chiaramente ha proprietà antibatteriche e antifungine. Dunque le nostre pasticche sono pronte. Non ci resta che trovare un contenitore per potercelo versare e farlo rapprendere. Si deve rapprendere, quindi diventeranno delle pasticche a gel. Naturalmente il mio telefono si è bloccato, sono incapace io a dir il vero, sul fornello, però mi ha fatto saltare il passaggio in cui mettevo il profumo. Un'altra cosa che ho messo fondamentale sono due cucchiai di alcol etilico, perché sprecare l'alcol buon gusto in questo caso non mi sembra giusto. Quindi due cucchiai di alcol etilico che potenziano ancora di più l'effetto disinfettante. Quindi vado a prendere questa forma di sapone in gel. Magari fatelo con più delicatezza rispetto a me perché l'ho rotta ma non ha importanza. E si va a tagliare. Io ho un vecchio contenitore delle vecchie pasticche sanitarie che tra l'altro ho buttato nella cassetta dell'acqua, dello scarico. Dopodiché non le ho neanche più comprate. Bisogna dire che hanno anche un bel costo. Ora queste sono economiche, ma ci sono, se voi le avete viste, insomma ce ne sono quelle in gel che hanno dei costi abbastanza elevati. Queste pasticche, considerando che ho usato un quarto di saponetta alga e pochissima soda e poco detersivo dei piatti, due cucchiai di alcol, costano circa tutte queste pasticche 50-60 centesimi. Insomma si ci va a parecchio tempo. Ora per conservare le pasticche, per evitare che si attacchino tra di loro, prendo dei fogli di carta forno in maniera tale che posso sovrapporle l'uno all'altro e poi conservarle nel bagno, in un mobiletto, insomma dove conserviamo i nostri detersivi. Ecco, ripeto, se volete naturalmente più profumo, anziché fare 20 spruzzate di profumo, mettere 20 gocce di olio essenziale, se volete più schiuma, aggiungete per dire un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo in più di sapone per i piatti e metterò comunque tutti gli ingredienti in dettaglio sotto il video. Intanto vi saluto, spero che questa ricetta che serve per igienizzare il nostro WC possa essere di aiuto, può essere un'idea e niente, spero che vi iscriviate al canale e in basso a destra del video trovate il tastino per l'iscrizione. Se il video ti è piaciuto magari lascia anche un like, lascia un commento, a me fa molto piacere interagire con voi e avere anche dei consigli, chiaramente. Ecco, le nostre pasticche sono pronte, adesso andrò a metterne una nel mio WC. È un WC un po' particolare il mio, perché il livello dell'acqua è sempre molto alto, rimane molto alto, sembra quasi un bidet, e non è rotto, è proprio così. Sì, infatti all'inizio per me era un po' tragico usarlo, avevo paura che mi toccasse l'acqua, insomma. Ecco, invece no, è un modello di WC fatto in questa maniera. Adesso lo vado a posizionare. Non ci sarà probabilmente tanta schiuma, anche perché ho tanta acqua nel WC rispetto alla quantità normale. Se volete colorarlo, aggiungete del colorante in polvere. Grazie, ciao, alla prossima!